Il sole in classe dell'associazione Hunter che hanno realizzato veramente dei bellissimi elaborati. Mi raccomando, votate questi alunni perché hanno realizzato veramente un prodotto fantastico. Come ambasciatrice Hunter delegato Hunter mi raccomando, votate i ragazzi delle classi terze del presso Lamboskin, l'istituto Settermino di Mandaloni. Sono stati fantastici ragazzi, mi raccomando, votateci!